Questa volta sono finiti in carcere i professionisti delle casse continue che nel 2017 si erano resi protagonisti di una serie di furti ai danni delle casse di supermercati. Si tratta di padre, figlio e di un amico dei due specializzati nella fabbricazione di chiavi e strumenti necessari per aprire le casse continue. Si trattava di sofisticati sistemi che permettevano di osservare i movimenti delle guardie giurate addette ai prelievi così da conoscere se piene o vuote le casse, uno studio maniacale delle dinamiche dei supermercati e una precisione millimetrica per la ricostruzione delle chiavi grazie a un ingegno fuori dal comune. Avevano pianificato decine di furti ma due persone erano state bloccate dalla polizia di stato la notte di Natale del 2017. La squadra mobile aveva ricostruito la dinamica di due furti che fruttarono circa 10.000 euro avvenuti a Pozzallo e Ragusa nel 2017. I due erano stati arrestati e poi rimessi in libertà. Adesso la polizia di stato, squadra mobile commissariato di Comiso, ha eseguito la misura cautelare della custodia in carcere a carico di Gaetano Maggio, nato a Palermo 62 anni fa, Alfonso Maggio, 29 anni, nato a San Giovanni Gemini e Mario Cartia, anche egli di San Giovanni Gemini, 56 anni, tutti residenti a San Giovanni Gemini, per avere costituito un gruppo organizzato che aveva come fine i furti del denaro contenuto nelle casse continue dei supermercati. L'arresto di Natale aveva sgominato la banda ma la ricostruzione degli eventi delittuosi portati a termine e quelli pianificati non era stata semplice per gli investigatori della Polizia di Stato. Dopo l'arresto, gli investigatori avevano effettuato delle perquisizioni a San Giovanni Gemini, dove avevano trovato il laboratorio per la fabbricazione delle chiavi e altri sofisticati sistemi per aprire le casseforti. La cura dei particolari ha reso questa banda tra le più competenti mai sgominate, sistemi ingegnosi utilizzati frutto di una intelligenza criminale non comune. Da un incrocio delle intercettazioni, esame dei sistemi di videosorveglianza, di numerosi supermercati presi di mira in provincia di Ragusa, Catania, Siracusa e Caltanissetta e altri elementi, è stato possibile appurare che il gruppo avesse pianificato di colpire in almeno 20 discount, ma sono stati fermati prima dalla squadra mobile di Ragusa. Il giudice, per le indagini preliminari, ha valutato che gli elementi raccolti dalla Polizia di Stato erano idonei per applicare la più grave misura cautelare, ovvero la custodia in carcere. Non appena ricevuto l'ordine di cattura dalla Procura della Repubblica, 15 uomini della squadra mobile si sono recati a San Giovanni Gemini, dove risiedono i tre arrestati. Grazie a tutti.